Sì, buonasera, buonasera Matteo Renzi. Lei ha detto da, non da senatore semplice di Firenze, da ex premio, da uomo delle istituzioni, c'è un pericolo, in realtà c'è un pericolo democratico. Ha detto c'è un ministro dell'interno che rischia di far mandare il Paese in recessione, che vuole i pieni poteri, che non ha chiarito sulla Russia e quindi di fronte a tutto questo non è possibile per noi stare alla finestra. Vuol dire tornare, parlare anche con chi l'ha insultata fino a ieri, dalle parti dei Cinque Stelle, ma anche qualcuno del PD. Ma in termini di insulti i Cinque Stelle si sono portati avanti con il programma e sono andati avanti anche oggi, quindi non è questo il punto. Il punto è che c'è un pericolo economico più che democratico. Questa crisi è inspiegabile. O Salvini si è messo d'accordo con Mentana per fare le maratone Mentana anche nei giorni di Ferragosto, oppure nessuno capisce qual è il vero obiettivo, lo immaginavo direttore, lo immaginavo che questo fosse il vero motivo, oppure nessuno capisce qual è il vero motivo, la ragione che porta un ministro dell'interno a non aprire la crisi per due mesi dopo le elezioni europee.